Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di rinfocolare i falò a Campo Merluzzo. Dove si trova Campo Merluzzo? Si trova praticamente qui, su questo isolotto dove c'è Gattogrill e Brughiere Brumose, praticamente tra le due località in basso qui, in questo isolotto, non potete sbagliarvi. Tutto quello che dovete fare è praticamente procurarvi la legna, che adesso mi manca, e rinfocolare un falò. Quindi non basta semplicemente accenderlo, ma bisogna alimentarlo in questo modo qua. Avete bisogno di farlo con tre falò, quindi potete completare questa sfida in qualsiasi modalità. Il primo falò si trova qui, praticamente, vedete? Sono qui, sul molo o sulla costa di Campo Merluzzo. Il secondo falò si trova un po' più avanti, quindi salite le scale, girate qui. Ovviamente dovete procurarvi sempre la legna per rinfocolarlo. Questo è il secondo falò, vediamo adesso il terzo. Il terzo praticamente si trova più avanti, quindi sono tre. Adesso vi mostro di nuovo la posizione di tutti i falò, eccolo qua. Qui dovrebbe esserci il terzo falò, da queste parti, dove c'era il forziere, un po' più avanti qua. Mi sono perso, scusate. Dovrebbe essere da queste parti. Eccolo qua, scusatemi. Non mi trovavo. Ecco, questo è il terzo falò. Quindi, ricapitolando, il primo si trova qui, il secondo si trova qui e il terzo si trova qui. Dovete procurarvi la legna e accenderli per completare la sfida. Grazie.